ho continuato a dare una sistemata ho messo a posto i miei backup queste casse stagne a tenuta stagna contengono i miei hard disk di backup non dovrebbero stare tutti assieme dovrebbero essere sparsi in vari posti cosa che farò ma per adesso sono lì ora ho prelevato altri due oggetti da qua dentro anzi, prendo anche questi perché è relato è relato a essi e ora gli diamo un'occhiata sono questi due strumenti e sono sostanzialmente purtroppo dei rottami quindi ora sistemo il treppiede qua e vediamo un po' di cosa si tratta io incomincierei da questo delle officine Galileo che sembra essere un tester ampere e volt e ha questa aggiunta e qua ha preso un pestone ha spaccato la bachelite e quindi io temo che questo oggetto tra l'altro è come vedete è tarato a cazzo è cazzato come si suol dire io dubito che girando qui eh, no si scende ma non troppo perché ha preso un pestone qua è stato già incollato evidentemente qui ci sono alternate continue c'è un cazzo rotante con l'indicazione di alternate continue secondo me questo coso ha poche speranze il vetro è collassato e quindi ci beviamo il caffè e poi lo smontiamo il caffè di ieri freddo ma buono allora, mano agli occhiali e al cacciavite che presumo piatto userò i cacciaviti che ci ha regalato Sebi che ci sta, penso, guardando dal Giappone e ho trovato questa sua scatoletta di attrezzini molto carini che userò io ci ho messo anche delle cose mie lì dentro e quindi ora apriamo viti piatte a taglio, cioè ma vedo che questo è un cacciavite che fa schifo al fa schifo alla trama intrinseca del cazzo e quindi userò questo ha un taglio più sottile ecco uno, va bene così facendo spero di liberarmi di oggetti e fare spazio fare sempre più spazio perché io mi dico sì questo poso che non si apre è carino però anche uno può dire anche che cazzo me ne faccio allora questa vite non viene via perché però è scollicata queste due sono venute via ok quindi questo poso o si apre o lo apro io a calci forse devo aprire anche questi quattro piccolini vediamo ma utilizziamo il cacciavite che abbiamo modificato vediamo come si comporta adesso lo prendo in modo veramente semplice e posso andare a prendere questo e metterlo qui e non mi scivola più nelle mani come prima peccato che questa cosa abbia un taglio gigantesco e quindi non lo posso usare devo usare questa vediamo come si comporta perfetto ora sì che posso girare e svitare con enorme semplicità senza che mi scivoli quindi il nastro autoagglomerante funziona veramente bene ok ora questa è una placca che si leva o no no è parte del conglomerato di questa troiata che non si vuole aprire neanche per il cazzo va bene passiamo alle maniere forti e non c'è verso forse devo togliere anche la manopola la manopola è uscita sana ora sì che questa cosa esce io scommetto che forse anche queste andrebbero svitati no mi sape no oddio oddio ok ok qui stiamo vedendo come è fatto l'oggetto abbiamo dei contatti abbiamo uno strumento abbiamo delle resistenze abbiamo dei pezzi rotti che incolleremo e abbiamo una serie di cavi che io chiamerò cacavi continuano ad uscire frammenti rotti io devo assolutamente reincollare queste cose perché come vedete lo strumento sembra sano sembra sano sembra anche puttano sano e puttano perché io così riesco a ecco sono riuscito a regolarlo devo reincollare questo vetro che come vedete si è staccato va pulito ed è vetro sembrerebbe proprio del vetro va bene questo cercheremo in qualche modo di pulirlo sperando di non romperlo è veramente vetro? sì questo strumento promette bene queste sembrano bobine qui abbiamo dei contatti che puliremo due diodi due porci diodi delle resistenzioni giganti che sono immagino partitore per fare la misura sullo strumento che il cui il cui cazzo mobile qui è regolabile tramite questo posso spostarlo come vedete e portarlo a zero perché questo qua ci deve essere questo pirlo che ci si infila probabilmente è stato aperto e richiuso male questo pirlo non era bene infilato nella nella pirlaggine vedete quanto si regola e poi tra l'altro l'ago qui va a strisciare vedete quindi questo strumento è stato manglato dall'inglese mangle è stato maltrattato veramente tanto per cui hanno piegato delle parti ora devo dissaldare questi e quindi li identificherò se riesco a dissaldare bene questo e a sistemarlo ma si lo lascio di qua io sarò contento proverò della gioia allora leviamo il caffè che si rovescerà sicuramente accendiamo il saldatore della Kaywitz che va rapidamente a 320 gradi stagno pasta salda e bestegno il saldatore è già pronto e dissaldiamo procediamo a dissaldare ora avere una pinzetta mi sarebbe di grande aiuto però vorrei una pinzetta che avevo qua fino a due secondi fa e ovviamente non la trovo più meno male che ce ne ho 14 qua ecco l'ho trovato fanculo cominciamo a dissaldare i fili ok qua c'è una grande massa termica quindi io questo lo porto a 350 gradi gli metto sopra un pirlo di stagno nuovo ora vedrete se non dissalda infatti ora dissalda certo ci mette ancora un po' ci mette tanto bene portiamolo a 420 gradi 420 gradi e va affanculo ecco ora si che dissaldi vero? ora la smetti di rompere i coglioni ecco fatto è facile dissaldare se porti il saldatore a 420 gradi perché la struttura di queste boccole è tutta in ottone pieno questa è roba degli anni 60 non è una cinesata di oggi fatto ora lo riporto a 320 e lo poggiamo nel suo pratico pratico se avessimo lo spazio perché qua è pieno di cagate pratico poggia vaffanculo salda vaffanculo tore qua questo è quello in dotazione e adesso abbiamo questo libero ed è libero e ora vediamo come si può fare per riattaccare questo pezzo rotto con tutte le sue parti rotte questo ha preso veramente un pestone infatti vedete viene proprio via questo verrà sempre via a meno che non lo riempiamo di epossidica con una violenza tale che non ci pensi più a venire via metterlo in posizione è complicato ma sembra quasi deformato sto cosa com'è possibile va bene temo di dover svitare anche queste parti quindi smonterò tutto qui vabbè inutile che vi faccio vedere questo tedio come vedete sono usciti pezzi pezzi minuscoli ed inverecondi e ora io procedo allora una cosa è certa questo va così e questo fa un culo a queste cose fa un culo a questi fili del c***o morto questo sicuramente va qui no questo sicuramente va qui no questo sicuramente se ne va a fan culo questo va qui è evidente così ma non ci va perché? perché sta roba è deformata ah ecco così va bene quindi ci va servirà molta violenza e servirà molto uso di bicomponente e d*** componente perché in questo momento qua questo pezzo entra perfettamente quindi sto pensando che potrei fissarlo con uno sbruffo merdoso di attack poi perlomeno per tenerlo in posizione ora non so come si comporta l'attack con lo bachelite ma lo scopriremo assai presto soprattutto scopriremo se io sto facendo un macello o no ecco sto facendo un macello infatti che non ho tempo ecco così sì così sì io mi sono impracchiato le dita per usare un termine tecnico mi sono impracchiato le dita di attack però questo pezzo diciamo che si è si è unito bene e per adesso può stare così poi le rifiniture le faremo in qualche modo vediamo se è il caso di mettere questo non ci va proprio preciso invece sì questo è l'altro pezzo porco questo va qui poi ci sono questi pezzi minuscoli uno e due e poi c'è un intero pezzo mancante ok questo ci va veramente bene perfetto questo è questo porco è caduto porco meno male che è attack che dovrebbe attaccare immediatamente ti è ti metto pure lì così ti è si capisce un cazzo questo è qui questo è evidentemente qui questo è qui no si capisce un cazzo ok questo è qua questo è qui però ovviamente manca un pezzo che sia uno di questi di questo glielo metto e aggiungiamo un pezzo al puzzo non so se state vedendo ma qua la ricostruzione se mettessi a fuoco sta avvenendo per frammenti poi sarà tutto da irrobustire quindi ho questo pezzettone devo unirli insieme prima quindi questo va unito insieme così cosa che farò sbavando colla dappertutto ma me ne fotto non so se serve soffiare sul ciano acrilato però l'abitudine l'abitudine è così ora questo pezzo è unito potrei quasi attaccargli questo perché io vedo una punta di una A qui infatti è proprio il suo e questo sta pian piano diventando un pezzo unico ora bisogna solo pregare che questa roba entri entri dove deve entrare qui forse devo scrapare ci sono parti che necessitano di persuasione ecco ora entra molto bene ora io incollo come viene viene io mi sto incollando le dita mi sto incollando le dita come un puttano un puttano ho notato un'altra cosa mentre sto pulendo questo vetrino e cioè che il vetrino in questione è stato incollato e non c'era alcun bisogno di incollarlo perché il case ha dei blocchi con delle viti qui vedete questi che erano stati bloccati in questa posizione ma questi si girano e tengono tengono il vetrino in posizione quindi la colla che hanno messo non ha alcun senso io sto cercando di pulire per bene ma so già che farò un danno irreparabile tra poco e se questo accadrà se accadrà il danno irreparabile voi ve ne accorgerete perché il mio canale sparirà il mio canale youtube verrà censurato per sempre ora vediamo se riesco a pulirlo con un poco di acetone e la carta sporca del pranzo diciamo che non è proprio il massimo ma va bene poi magari lo puliamo per bene però intanto va molto meglio così sono un po' di aloni come potete vedere aloni in the dark la maglietta la maglietta pulisce molto bene infatti con la maglietta sto ottenendo un risultato ottimo il vetrino sta proprio nella posizione giusta non ci vuole proprio niente poi basta girare questi e basta successivamente avvitare senza esagerare con la forza perfetto senza colla epoxi epoxi questa eposidica bosti che ce l'ho da un sacco di tempo a diversi anni e continua a funzionare forse mi conviene togliere il vetro perché so già che lo sporcherò irrimediabilmente sono dei danni atroci lo so io lo so ora con l'eposidica voglio riempire le parti che sono rimaste prive per così dire di contenuto non ne posso mettere troppa perché se no poi non si chiude più il vetrino ok ora come pulire l'accesso chissà se funziona l'acetone vediamo non è bello ma insomma è meglio di niente vaffanculo ora vediamo se riusciamo a provare il volmetro perché lui qua mi dice adesso lui qua mi dice questo è il è lo sposta tensione quindi così sono su continua quando lo giro così questo coso si alza e preme evidentemente questo però non mi convince così continua e abbassa questo e così alternata quindi sono in alternata quindi per provare la continua io devo spingere questo in basso e per spingere questo in basso devo ficcarci qualcosa dentro io lo devo ficcare deve premere questo e deve staccarne un altro quindi devo tenere così ampere volt e questo sembrerebbe la terra ma è rotto quindi volt volt e terra e questi che cazzo sono questi vanno qui questi vanno solo qui ok quindi in realtà volt e terra io dovrei attaccarmi al cazzo qui terra terra sia volt e volt sia ora io qua mi accendo ah è già acceso culo lo metto a 5 volt e abbasso la corrente al minimo infatti lui non fa un cazzo perché non fa un cazzo perché sono un coglione che cazzo sto facendo sono qua i terminali coglione coglione allora io qua c'ho 5 volt con un minimo di corrente infatti adesso vado con il negativo qui e con il positivo qui se premo qua lui non fa un cazzo perché è a zero io devo scendere è a 600 120 60 30 6 6 volt quindi se vado qui lui va al contrario quale motivo quale motivo va al contrario misura sballata io dovrei avere troppo meno ma mi indica 5 però eh la scala è a cazzo di cane perché si incolla qua per quale motivo mi si incolla beh intanto io ho rimontato questi e sono a posto ho messo dell'addio componente qua e ora aspettiamo che asciuga e nel frattempo possiamo dare un'occhiata a questo strano oggetto sozzo sozzo come mai con dei fili che escono e non non ha un bel aspetto non collabora come vedete non collabora nello svitarsi ecco quindi oddio che cazzo è sto coso qua ci sono morsetti per due fili qui c'è un uno scrotatore rotativo uno scrotone rotativo qua ci sono simboli alieni questo per questo ohm potrebbe essere un ohmmetro qui c'è un t e un g che non so cosa siano e anche questo ha delle boccole anche lui è imbachelite sembra fatto in due pezzi che ora noi in qualche modo apriremo perché che non possiamo fare altrimenti non possiamo non possiamo non aprire questo oggetto io vedo due viti qui dure come la merda del santo padre quindi passiamo alle maniere forti niente bisogna veramente usare la violenza è il santo padre che ce lo richiede e prima che qualcuno si allarmi oh sbesto ho bestemmiato oh stai bestemmiando il santo padre non è una divinità e quindi tecnicamente non si tratta di una bestemmia ma sto semplicemente chiamando il santo padre il santo padre ok sono uscite tutte le viti tranne una sempre quella che deve rompere il cazzo e ora questo bivalve non esce vediamo se devo togliere la manopola e infatti c'è una manopola che non uscirà mai sì invece sì guardate è uscita manopola col feltro con il feltro e poi c'è questa secondo me non uscirà mai questa non ha la vite questa è la reazione e devo tirarla fuori così ma non esce infatti hanno spaccato qua per provare a tirarla fuori ma qua hanno sicuramente qui hanno rotto hanno rotto hanno rotto i coglioni qui perché vedete questi sono i contatti striscianti qui però la parte che sciscia è sopra è sopra la vedete dove cazzo è l'inquadratura? qua la parte che strisce è sopra e i contatti striscianti sono sotto quindi qualcuno lo ha defenestrato con odio perché questi dovrebbero andare su che ci dovrebbe essere un ecco così dovrebbe andare ecco e qua dovrebbe esserci un blocco che interviene con questo pirlo che però non blocca un cazzo vediamo cosa succede se svito questi due dovrebbe venire fuori tutta questa placca anale che dovrebbe avere il blocco che si svitasse con due lingue di metallo con due sferette che perderemo infatti già una l'abbiamo persa e questo è il blocco che dovrebbe andare più in basso e dovrebbe bloccare ma non blocca queste sferette so già che fine faranno dovrebbe andarsi a bloccare e a sbattere qui pure così dovrebbe essere giusto ok rimontiamo tutto quindi adesso rimettiamo le sferette che ovviamente sono magnetiche queste bastarde di porco ora rimettiamo le molle che tengono le sferette in posizione io sto ancora girando quindi se io adesso stringo qua e stringo qua ora questo lui mi fa così però mi è andato giù perché questo pirlo non scende perché questo pirlo del cazzo non fa il suo dovere questo dovrebbe agire da blocco invece non blocca una minchia perché questa merda si alza quindi mi serve una vite più lunga mi serve un cazzo più lungo di questo serve un grano più grosso di questo e io dalla scatola delle viti di recupero ho trovato questa vite di pc è allo stesso passo quindi ora gliela ficco ed è perfetta è perfetta perché ora sbatte e non va più fuori chi è è perfetta toh e questo grano me lo ficco nell'ano non vi dico le bestemmie per rimettere a posto questo filo lungo questa guida rotonda tesissimo su cui scorre un cursore ora però per pulire il vetrino qua ho svitato le due viti che tenevano bloccate queste che sono queste cazzo di viti bastarde del porco del boia e si sono spaccate tutte e due qui e qui quindi ora col Dremel dovrò usare la violenza e spaccherò tutto e vaffanculo ma si spacchiamo tutto vaffanculo si vede un cazzo porco d***o segniti ho fatto un macello sono volati i pezzi ho sicuramente spaccato tutto però adesso ho due buchi laddove c'erano quelle viti del c***o e quindi ora queste sono da buttare devo trovare due vitine due vitine microscopiche microscopiche del porco e forse mi viene ancora in aiuto Sebi il mio amico che vive in Giappone che mi ha lasciato plenty of viti e quindi forse io ne trovo adesso qua due che maledizione però a lui Sebi io ti maledico e tu sai perché è vero? Perché queste sono tutte torx ma non ho scelta purtroppo non ho scelta perché ho solo queste eh maledizione pure le torx adesso ma non è possibile vediamo se si avvitano qua sì ovviamente essendo torx si spanano immediatamente e spanano anche il tool logico no? oh Gesù vediamo se questa è più grossa no questa è più piccola non si capisce un cazzo queste torx non si capisce un cazzo ma come è possibile? niente questa non va questa gira a vuoto niente non c'è verso ma che cazzo viti pure le torx è una beffa Sebastiano mi ha lasciato una beffa sono beffato da queste maledette torx mi hai beffato proprio completamente spanata in un attimo perché questa va è nuova questa è nuova con il suo cacciavite ora io la ficco qui e questa avvita però io adesso se la ficco qui non avvita molto bene finché si spana ed ecco che si è spanata ed è l'ennesima torx che si è spanata o si spana lei o si spana il tool fanculo ste torx faro sebi mi dispiace dirtelo ma queste viti le butterò tutte via perché sono tutte delle torx del cazzo vedete niente non c'è niente da fare vediamo questa questa è una T4 quella è una T5 e la T6 non ci entra perché se con la violenza sono riuscito a estrarla questa torx del cazzo fanculo le torx fanculo proviamone un'altra non appena fai un attimo di forza queste troie di viti torx se ne vanno a puttane non c'è niente da fare proviamo queste un po' più lunghe magari hanno una testa migliore no ma qua si è spanato lui si è già spanato il tool è una cosa allucinante questo non entra proviamo questa nera questa nera fa quindi useremo queste useremo queste nere fanculo e a chi ha inventato le torx possa c***o male pazzo la pulita questo sulla maglietta e qua questo ponta V Weston ponte di Weston chissà se tornerà mai a funzionare nutro dei dubbi pazzeschi perché questo filo era tutto svolto ma chissà maledetto ora questo sinceramente non so dove deve andare presumo qui e l'altro dove c***o è finito adesso oddio oddio abbiamo perso l'altro ah no eccolo qua travi per fortuna questa è magnetica questo sarà così e questo sarà così voglio sperare da una parte sbatte dall'altra sbatte vaffanculo ok questo l'abbiamo rimesso il coso l'abbiamo rimesso qui mi pare che siamo a posto secondo me questa cosa si sgancerà ancora e più di questo non possiamo fare ora una pulita al vetrino qua che è uno sterco e lo rimontiamo ok e la batteria della telecamera sta finendo comunque ponte di weston rimontato cursore che scorre bene commutatore che commuta adesso nelle posizioni giuste e non al contrario come era messo io con l'allergia e quindi questo coso lo mando a fare in culo anche perché non lo so usare non so come si usa un ponte di weston non l'ho mai usato forse l'ho usato a scuola per fare delle misure non mi va di cercare come si prova questo si può regolare bene adesso si può tarare e quindi lo metto da parte qualcosa mi dice che finirà su ebay mentre questo invece questo ha l'ago che si muove sempre a cazzo lui si muove perché io respiro muovo l'aria va bene ho deciso che adesso questo lo chiudiamo così e vaffanculo ora gli metto il vetro il suo vetro del cazzo che si è di nuovo sporcato senza nessun motivo stando lì stando lì si è risporcato non si capisce per quale por... di motivo e quindi lo rimonto e vaffanculo ecco qua io lo metto lì o vai in posizione o vai in culo le cose sono due caro il mio vetrino o vai in posizione o vai in culo perché qua non ci sono vie di mezzo queste linguette del cazzo sono fatte apposta per finire in mezzo i coglioni quando non serve quindi questo lo chiudiamo se il porco mi fa il favore di non essere porco grazie lo possiamo chiudere come vedete io sto chiudendo queste linguette che non so se si vede ma tengono il vetro in posizione ora devo risaldare i fili cosa che farò immediatamente perché mi sono rotto il cazzo e quindi basta adesso basta si chiude questa cosa e si dà per finito poi ci sarebbe da tararlo ma vaffanculo anche perché vaffanculo ecco perché voi mi direte ma perché e io vi dirò perché vaffanculo però prima gli do una strettina alle viti ora che il dio componente si è solidificato una strettina sperando di non spaccare di nuovo la bachelite se no lo vedrete volare al di là della panoramica di palazzola crede farò una performance in cui scaraventerò lontano questo oggetto e ora ricollego tutto quanto e qui si tratta solo di di fare la saldatura per cui lo sparo a 420 watt 420 gradi per la precisione a questo punto con la pinzetta forse ci riesco ci metto un attimo con la punta del saldatore a 420 gradi vedete con la violenza si ottiene sempre tutto qualcosa non si dissalda o non si salda bene è semplice sparate il saldatore a 420 gradi e poi vedete come si salda ecco ora ah ma ho dimenticato questi due fili attenzione perché io qua ho due cazzi neri e due cazzi neri che vanno qui poi ho questo filo che va qui e quindi aggiungo anche qua un po' di stranone mi stavo dimenticando questi due fili adesso come li devo passare questi fili affinché non rompano il cazzo quindi ora in teoria in teoria il cazzo perché c'è la manopola in mezzo al cazzo esci allora questo al centro questo al centro dovrei in teoria ed è volata una vite non so da dove dovrei in teoria perdendo un'ennesima vite che è caduta a terra porco di dovrei poterlo chiudere ma prima verifichiamo che si possa regolare l'ago e insomma si ovviamente se lo tengo così legge una cosa se lo tengo così le leggi un'altra vaffanculo me ne sbatto il cazzo nonché i coglioni ora rimetto le viti e questo coso lo diamo per chiuso è finito e logicamente sarà tutto starato io lo so questa la posso chiudere questo pure se si degna di abitare e la batteria sta finendo penso che il video finisca qua io non commenterò ulteriormente e lascerò finire la batteria con il video che si finisce da solo ci sono queste quattro vitine del manga vitine in culo se lo tenga e queste le abito con lui grazie per aver assistito a questo scempio a questo orrore io non so non so perché è veramente horror questo tester chissà se torna a funzionare io non lo so forse forse queste officine Galileo potrebbero andarsi a fare in culo a fare in culo a fare un affare in culo copernicano quasi quasi oserei dire ora con la scala che funziona questo troiaio qui apre e chiude il cazzo e quindi eccolo qua ripristinato in modo fecal la fecalità la fecalità in un tester che poi c'è questa parte che si ficca qui così e serve immagino per fare un altro tipo di misure di cui io me ne strasbatto perché non me ne fotte un cazzo andiamo a vedere al volo se io ottengo qualcosa da questo voltaggio vediamo presto prima che finisca la batteria presto negativo qui ma abbiamo visto che era il contrario io non capisco non capisco perché questo non si apre di più no apriti ma questi qua sono solo lunghi come il mio cazzo infatti va al contrario è strano la polarità è al contrario però ho ho dei sommovimenti vedete in scala 6 volte lui va quasi al suo 5 che sembra essere vedete è qui è qui e lui è così è fatto così io non lo so sinceramente quanto deve misurare però se sta così l'ago si ferma in un posto se sta così si ferma lì io quanto misuro non lo so sono un po' più di 5 volte e qua mi segno un po' più di 5 volte sulla scala che è una scala che non si capisce un cazzo ma va bene così sono in corrente alternata perché se metto cioè sono in continua perché se metto in alternata lui non capisce una beata minchia se lo metto se tolgo tutto qua l'ago è già spostato quindi lo devo regolare quindi lo metto a zero ecco a zerato se ora gli do il 5 volte al contrario perché sono un coglione lui mi va quasi sul 5 volt e vabbè Galileo questo è un qui serve una pila ci sono dei potenziometri delle bobine non lo so io me ne fotto sinceramente me ne sbatto proprio lascio così questo è il suo cosa mi dice che finisce su ebay perché non me ne faccio un cazzo è lo stesso che è il ponte di whetstone che lui e le sue pietre bagnate del cazzo se ne deve solamente andare a fanculo e questa è della pontavi boh o pontavi o pontavaffanculo whetstone chi me l'ha fatto fare ma chi me l'ha fatto fare ci siamo tolti dai coglioni anche questi due oggetti che finiscono su ebay e non se ne parla più metto all'asta chi li vuole chi spicci ci faccio qualche soldo per il museo dell'informatica funzionante per pagare le bollette perché siamo sempre in bolletta e già che fanno fare che fanno che fanno